Caterina Sciula, protagonista, unica protagonista femminile, sì, del confine, 1915 a Trieste, prima guerra mondiale. Sì, Emma Cantonaro, una ragazza che viene da una famiglia ebrea, che è legata dall'amicizia a questi due ragazzi, Bruno, il figlio di una famiglia italiana, e Franz, un ragazzo austriaco, quindi sì, un incrocio di amore e di amicizia che parte appunto dalla prima guerra mondiale fino all'inizio della seconda. Personaggio attuto tra amore e famiglia. Sì, amore e famiglia, anche appunto da questo punto di vista, è una ragazza molto determinata per quell'epoca, è moderna molto quello, Emma, perché è una ragazza che va fino in fondo per l'amore e per l'amicizia, va fino in fondo anche contro la famiglia, che insomma è una cosa molto rara per quell'epoca in una famiglia così rigida di costume e di usanze. A proposito di costume, che sensazione ha avuto a interpretare proprio su quei luoghi questa storia, perché noi tutti l'abbiamo studiata comunque sui libri perché non l'abbiamo vissuta in prima persona? Guarda, è stato bellissimo sia dal punto di vista dei luoghi in cui abbiamo girato, perché poi abbiamo girato a Gorizia, Trieste, Udine, a Gorizia per esempio è una città veramente di confine, e anche adesso si percepisce nell'aria quella realtà anche delle persone che ci vivono ancora, quindi che vivono ancora quella sensazione di un paese praticamente del confine, ma anche dal punto di vista dei costumi, trucco, costumi, i miei erano tutti costumi autentici di quell'epoca, quindi è anche una responsabilità nel portarli in maniera molto diversa, che non è quella appunto se facessimo un progetto moderno, quindi hanno fatto veramente un bellissimo lavoro tutti i reparti ed è stato un lavoro veramente di gruppo, di squadra. Da donna a donna come reputi Emma? Emma è una ragazza dolce e a volte testarda, quindi credo se ci tornassimo indietro, io fossi Emma con l'epoca rischerebbe molto per quello che ha fatto, ma ciò nonostante l'ha portato avanti a testa alta, sì, quindi l'ammiro, l'ammiro molto da quel punto di vista. Senti, tra i tuoi prossimi progetti sappiamo che uscirai a breve con un film e sarai poi in teatro. Sì, io sono in teatro adesso fino al 20 maggio con la commedia Uomini Separati di Rosario Galli, sono a Teatro dell'Angelo e sarò al cinema con Hotel Gagarin del 24 maggio, che è una commedia corale con Battistone, Argentero, Bobulova. Grazie. Grazie.